Spazza qui spazza la, sono un bidello tra la la. Spazza qui spazza la, sono un bidello tra la la. Ciao a tutti ragazzi, come state? Sono io fratello del camino. In questo video sto cazzeggiando sul gioco Dead Rising 2. Adesso andremo a fare un po' di stragi di zombie. Andiamo. Questo videogioco è molto divertente e per di tempo. Infatti il bello è che potete usare tutto quello che trovate in giro per uccidere gli zombie. Oh, aspettate un attimo, è ancora sporco qui. Inoltre potete farvi delle armi combo, come il secchio e il trapano. Io lo chiamo l'acconciatore, dopo vi spiego il perché. Siete pronti? Andiamo. Ehi, vuoi scopare? Fanculo. Ciao bello, vuoi comprare? La tua roba marocchina? Neanche per sogno. Ehi, venite qui, c'è un verginello. Stupriamolo tutti insieme. Tua mamma brutta stronza. Statemi lontano zombie del cazzo. Ehi, che bel negozio, adesso mi provo dei vestiti. Ma che belle scarpette, ti stanno benissimo, sono favolose. Adesso pure gli zombie froci mi rompono le palle. Ehi, pu, vuoi un po' di soldi? Prendi. Molte grazie fratello. Io è zero povero e non potrei comprare vestiti. Ma che schifo, questa bibita sa di merda. Certo, ci ho pisciato, cadato e vomitato dentro. Ecco perché, non toccherò più un merda shake. Guardate come sono figo. Ehi, mi compri qualcosa? Fanculo. Ehi, vuoi un succhiotto? Lasciami stare finocchio di merda. Non sono mica rida. X di X di X di D di D. Vi ricordate dell'acconciatore? Adesso vi faccio vedere perché si chiama così. Ehi tu, vuoi tagliarti i capelli? Ecco, tieni. Ma che bella acconciatura. Qualcuno vuole un altro taglio di capelli? Io io. Perché io non avere soldi per parrucchiere. Sei bruttissima. Mettiti un po' di trucco. Così va meglio. Perfetto. Ti piace il mio coltello nell'intestino? Certo, come il tuo enorme cazzo nella mia figa. Che schifo. Ehi, mi sto provando il cappellino nuovo. Non mi toccare. C'è un po' di sporco qui. Bisogna pulire. Ti piace la nuova acconciatura? X di D di D. Oh, che figata. Guarda che bello un orsetto elettrico. Chi vuole un abbraccio? Bam, lo vuoi tu. Bello, ninja zombie in 3D. LOL. Vediamo se sono fortunato che numero esce. Boom, headshot. LOL. Lo vuoi arculo sto martellone? Sì e vai, ora di andare a nanna. Mettiamoci il pigiamino. Ehi, vuoi giocare a pallavolo? Dai forza alza tu. Sei proprio una schiappa. Dai riprova. Stai migliorando, su continua ad esercitarti. Grazie. Lo vuoi un bacino? Per carità divina stammi lontano. Vieni qui amore mio. Ma che cazzo fai? Vai via brutto frocio. Avete visto i cartelloni di Playboy durante il video? Mi fanno sborrare nel pigiamino appena comprato XDXDDD. Ehi, c'è una signora incinta laggiù. Bisogna portarla al pronto soccorso, gli si stanno rompendo le acque. Pipo 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 sono l'ambulanza pipo 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 pip Guarda che volo. Tenetevela. Ancora tu? Vai via. Chi vuole farsi bello? Tenete. Dai anche un po' di trucco. Andate via brutti stronzi. Oh no 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 che buona. Che bello un negozio di sport. Andiamo a vedere cosa c'è di interessante. Questa è solo una normale mazza da baseball Vediamo cosa c'è altro al piano di sotto Guardate come sono atletico Usain Bolt mi fa una pipa xddd Oh, una mazza da golf Facciamo qualche tiro in buca, o meglio, in zombie LOL Boom, headshot LOL Ecco, 450 zombie uccisi Questa sicca è una vera strage Minchia che volo xd Avete visto come sono bravo Tiger Woods scappa quando mi vede giocare Perché ha paura della mia mazzona da golf xd Ma che bella chitarra elettrica Quasi quasi suono qualcosa Non è accordata molto bene Forse ci vuole l'amplificatore Eccolo qui, colleghiamolo alla chitarra Forse suonerà meglio Adesso si, suona decisamente meglio i Metallica e Megadeth Dong, bling, pling, 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 pling Blin bling 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 bling. bling 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 bl Spero non sia quella stronza della team a scassare il cazzo per i soldi. Andiamo presto. Dobbiamo portare questa donna all'ospedale, è stata morsa da uno zombie xdxddd. Lo so che lo è già, infatti non vedete quanta è brutta. Spero di non ritrovarmela mai nel letto. Stai zitto, non ti lamentavi così l'altra sera mentre eri ubriaco. Inoltre ti ho attaccato la IDS. Nooo, brutta stronza, io ti denuncio. Ti faccio causa per molesti e sessuali puttana. Ho fame, voglio uno snack. Merda, 100 dollari, un dolcetto del cazzo. Fanculo. No, 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 no Credeci da fratello del Camino.